Maura, per lavoro prof, filosofia e scienze umane, campagna, storia della pedagogia. Gli studenti sono il fulcro del nostro lavoro. Perché se io non insegnassi, lui non potrebbe fare nessun lavoro, poi. Non lo so, ho sempre voluto fare l'insegnante, non ho alternative. E sono contenta così. Mi chiamo Fulvia. Faccio il lavoro che faccio perché mi piace capire le cose e mi piace capirle spiegandole ad altri. Gli studenti sono troppi. La scuola dovrebbe scoprire il mondo e invece se ne sta chiusa dentro le aule. Se non fossi un insegnante sarei una psicologa. Gli studenti sono... non lo ricordo. Mi chiamo Iuri Berio Rapetti. Materia di insegnamento? Insegno filosofia e storia al liceo classico. Materia che vorresti insegnare? La mia. Cosa si dovrebbe fare a scuola che invece non si fa? Si dovrebbe fare, a mio avviso, un po' di educazione all'utilizzo dei social e dei media. Cosa che nella nostra scuola si fa solo per alcuni allievi che decidono di fare dei corsi in più. Faccio il lavoro che faccio perché mi piace vedere negli occhi dello studente quella lucina che si accende quando non ho capito qualcosa che ho spiegato. Insegnare è una bellissima fatica. Allora, mi chiamo Lisa Spadaro. Insegnare è continuare a studiare e a imparare. Insegnare è impegnativo, ma da grandi soddisfazioni.